Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart Studio, Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale toscana e sulla strada di grande comunicazione, Firenze-Pisa-Livorno. In A1 stanotte, in orario 21.6, resterà chiusa l'uscita di Firenze Nord provenendo da Roma. In contemporanea, in A11 sarà chiuso per chi proviene da Pisa il ramo di allacciamento con l'A1 in direzione Bologna. Sulla strada provinciale 11 Pisana per Fucecchio, nel comune di Cerreto Guidi, fino al 6 aprile, in orario 8.19, senso unico alternato per restringimento della carreggiata tra i chilometri 4.500 e 8.500. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!